Promuovere i valori della società, condividere le fragilità per alleviarne il peso sociale. Su queste basi valoriali nasce il premio Solidarietà, presentata stamane a Palazzo di Città, la prima edizione che avrà luogo il prossimo 11 dicembre al Teatro Fusco di Taranto con inizio le 17.30. A conferire ulteriore forze e vigore alla presentazione del progetto, che ha l'ambizione di consolidarsi e di istituzionalizzarsi nel tempo, la coincidenza della celebrazione della giornata mondiale del volontariato, che ricorre proprio il 5 dicembre, secondo quanto sancito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1985, a promuovere l'evento Comune di Taranto e Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Questo anno abbiamo l'onore e il piacere di organizzarlo insieme al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e sarà un'occasione per dare una menzione particolare a chi si è distinto nell'ambito dello sport e dell'inclusione, soprattutto individuando tre categorie, quella dell'associazionismo, quello della scuola, il mondo della scuola e il mondo delle professioni. E poi saranno premiati due personalità illustre, uno appartenente al corpo della Guardia di Finanza e uno invece proprio alla città di Taranto, con il prezioso contributo da parte della fanfara della Legione Allievi. Colonnello, la Guardia di Finanza è in una veste diversa in questa occasione? È una bella veste, è una veste che è nelle nostre corte, che deve pian piano caratterizzare il corpo nelle principali manifestazioni cittadine. La modalità con la quale la Guardia di Finanza di Taranto incontra il territorio, interpreta le istanze del territorio e contribuisce in modo fattivo ad un'iniziativa benefica come quella di cui parliamo oggi. Mi preme molto ringraziare l'amministrazione comunale di Tarantina per averci coinvolto in questo bellissimo evento. Presente alla conferenza stampa la docente universitaria Adriana Chirico, coordinatrice dell'evento. Grazie a tutti.